siamo giunti alla sesta una buonanziani sul miglio non corre il numero uno anzangherone rimangono in nove miglio corsa molto aperta ula zac joe ribo gal ma anche playtime wise e in seconda fila seguite anche paolo e patriot gar insomma trovare il cavallino giusto mezzo meccanico in movimento in nove agli ordini dello start allineamento che va a completarsi arretrato udini giù numero otto con tranquillità parte anche playtime wise va via la macchina in velocità alla chiusura si lotta per il comando rientra bene rolex winner ribo gal potrebbe parcheggiare vediamo un po a largo ula zac joe che si ritrae e cerca di parcheggiare eccellente il 13 e 4 a partire e così al comando rolex winner con crescenzo maione si completa la piegate anche il quarto iniziale abbastanza veloce il quarto iniziale addirittura 28 o meno qualcosa e così rolex ribo gal più staccati gli altri capeggiate da ulac za e siada spritz fuori corsa paola z n 600 micidiali 42 3 da uno dieci e mezzo e non ammette interferenze il buon maione con il suo targato win e conduce pedinato come un'ombra da ribo gal mezzo miglio nell'ordine del 57 e 9 15 e 6 di frazione ora diminuisce un po l'andatura accorciano le distanze ritardatari capeggiati da ulac za giù chilometro bollente per la categoria in 12 e 7 14 8 di frazione 500 alla meta ora è stappato deve essere sostenuto ribo gal già si affaccia curva finale alla finestra ula zack giù viene via ribo gal 15 e 2 fanno 1 27 e 9 tre quarti di miglio cavalli al completamente la curva finale ula zack prende la scia di ribo gal che sta passando passa ribo gal inseguito da ula zack giù a lunga ribo gal prende vantaggio poi viene via sia da spritz e mentre ribo gal con il presidentissimo chiude la partita sia da spritz sul palo a pariglia ula zack giù bella vittoria del presidentissimo pl d'angelo servito a dovere uno 57 e 7 uno 13 e 6 per questo ribo gal rivisto al meglio al totalizzatore 378 per il secondo attenzione attendiamo il giudice d'arrivo i due sono quasi perfettamente apparigliati e lasciamo il compito a chi è di dovere linea lo studio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti